Manifestazioni della solidarietà italo-spagnola a Valladolid, la bella città che precedette Madrid quale capitale della Spagna, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del fascio italiano. Dopo la benedizione del cagliaddetto avvenuta nella magnifica cattedrale che si adorna di opere del Velasquez, dell'Herrera, di Juan de Arfe e del nostro Luca Giordano, cortè di patrioti ineggianti al caudiglio Franco, al Duce, alla Nuova Spagna e all'Italia faccista hanno percorso le vie della città, presenti tutte le autorità locali con a capo il generale Don Deverian Martínezianido, rappresentanze dei fasci italiani in Spagna e degli eroici volontari combattenti per la causa della Nazione Amica e dei città. Il fascio di Valladolid porta il nome del tenente Mario Mina, caduto per la difesa della Spagna nell'accrociata contro l'invasore comunista. Grazie a tutti!